cold case casi freddi che all'improvviso si riaprono quello di marco pantani trovato morto 17 anni fa oggi la magistratura ha riaperto l'inchiesta con l'ipotesi di omicidio ma attenzione perché anche noi riepriamo un cold case quello di emanuela orlandi svanita scomparsa nel nulla a roma 38 anni fa una intervista clamorosa al magistrato che seguì l'inchiesta al fratello di emanuela all'avvocatessa della famiglia orlandi laura sgro attenzione perché questa sera lo snodo che uscirà fuori avrà delle conseguenze sicuramente sul piano giudiziario e rappresenta un nuovo punto di partenza per questa storia la vignetta di mauro biani cold case in trecci di finestre riaperte stasera ne riapriamo parecchie state con noi atlantide fra pochissimi minuti cold case casi freddi come si dice in gergo e naturalmente chiunque ha visto una serie televisiva in cui si fanno indagini di un certo tipo e con una certa profondità sa benissimo di cosa sto parlando ce ne sono alcuni in questo momento da alcuni giorni da alcune settimane che si sono riaperti o si stanno per riaprire in modo clamoroso ne citiamo tre tanto per cominciare quello di dell'omicidio di meredith kircher che fu uccisa a perugia 14 anni fa quello della scomparsa di emanuela orlandi svanita nel nulla a roma 38 anni fa e quello della morte di marco pantani che risale a 17 anni fa e oggi improvvisamente i magistrati hanno riaperto con una ipotesi di omicidio ma soprattutto è quello di emanuela orlandi sul quale abbiamo sempre tenuto la luce accesa che questa sera potremmo noi riaprire in modo clamoroso ed è il caso che rimaniate ad ascoltare quelle che saranno le interviste che faremo al magistrato che si occupò dell'inchiesta al fratello di emanuela orlandi a pietro e alla avvocatessa laura sgro della famiglia orlandi guardate che quello che verrà fuori questa sera sarà assolutamente impensabile e incredibile dopo tutti questi anni e naturalmente avrà delle conseguenze sul piano giudiziario di questo siamo certi ma i col case in italia sono stati tanti e noi ne abbiamo selezionati alcuni del passato e del presente per darvi un'idea di tante storie che sono rimaste senza verità e senza giustizia guardate il 9 aprile 1953 viene trovato riverso sulla battigia della spiaggia di torbaianica il corpo di una giovane donna si chiama vilma montesi aspirante attrice di 21 anni e il suo caso sta per diventare il primo scandalo del governo de gasperi l'ipotesi è che abbia partecipato a un festino a base di droga e sesso assieme ad alcuni notabili tra i quali il musicista piero piccioni figlio del ministro degli esteri attilio ma il medico legale non riscontra tracce di violenza sul corpo e il delitto rimane irrisolto pur risultando fatale per la carriera del ministro democristiano è un mistero lungo 50 anni anche il caso del giornalista mauro de mauro scomparso nel nulla a palermo il 16 settembre 1970 dopo l'assoluzione di totò riina per omicidio e occultamento di cadavere i giudici hanno ipotizzato che dietro la scomparsa ci sia la morte del presidente dell'eni enrico mattei su cui de mauro aveva indagato avanzando per primo l'ipotesi di omicidio di recente la figlia franca ha chiesto l'esame del dna sui resti di un corpo rinvenuto a settembre in una grotta alle pendici dell'etna che presenta come suo padre segni di fratture sul naso in anni più recenti un altro caso che ha appassionato l'opinione pubblica è quello di via poma in un appartamento al civico 2 della tranquilla strada del quartiere prati a roma il 7 agosto 1990 fu trovato il corpo senza vita della 19enne simonetta cesaroni uccisa da 29 coltellate durante le indagini i sospettati sono stati scagionati uno dopo l'altro a cominciare dal portiere del palazzo pietrino vanacore suicida vent'anni dopo il delitto fino al fidanzato di simonetta raniero busco rilasciato per mancanza di prove vent'anni di indagini e ancora nessuna condanna per il delitto di arce piccolo centro del frusinate nei cui boschi il primo giugno 2001 è stato trovato il corpo della diciottenne serena mollicone due giorni dopo la sua scomparsa con mani e piedi legati e la testa in un sacchetto di plastica secondo quanto ricostruito dall'accusa sarebbe morta nella caserma dove era andata per denunciare per spaccio di droga marco mottola figlio del comandante dei carabinieri di arce a ucciderla sarebbe stata proprio la famiglia mottola lo scorso 3 dicembre la donna che ha contribuito alla riapertura del caso nel 2016 ha cambiato la sua versione smentendo di aver mai visto serena mollicone nella caserma e poi c'è il delitto di perugia la sera del primo novembre 2007 la studentessa inglese meredith kerker viene uccisa con 47 coltellate a 22 anni e condivide la casa con tre ragazze fra cui l'americana amanda nox su di lei e sul fidanzato raffaele sollecito si concentra l'attenzione della stampa internazionale 15 giorni dopo il delitto viene arrestato rudy ghede un ivoriano di 21 anni che ha lasciato traccia di dna nella camera di meredith il ragazzo è condannato a 16 anni per concorso in omicidio e violenza sessuale nel 2009 vengono condannati anche la nox e sollecito a 26 e 25 anni volevano aiutare ghede ad abusare della kerker e l'hanno uccisa la lunga vicenda giudiziaria si concluderà nel 2015 con la soluzione definitiva dei due in cassazione dovuta da una parte al mancato ritrovamento dell'arma del delitto e dall'altra secondo alcune voci alle forti pressioni da parte delle autorità americane per far assolvere amanda ghede che si è sempre dichiarato innocente avrebbe finito di scontare la pena il 4 gennaio 2022 ma è uscito in anticipo per buona condotta in un'intervista ha dichiarato io so la verità e anche amanda la sa donato carrisi scrittore sceneggiatore regista il suggeritore il tribunale delle anime adesso in libreria con la casa senza ricordi donato buonasera 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 donato non abbiamo nulla da invidiare ad altri paesi dove i call case no producono storie fiction film e quant'altro anche noi diciamo siamo ben forniti sì ma quanti sono i call case italiani questo numero viene taciuto abilmente nel senso sarebbe facile ricostruirlo però non se ne parla perché sono tantissimi in realtà non si vuole dare l'impressione che si possa farla franca c'è una un'espressione che usano i criminologi profiler vale a dire se il caso non viene perlomeno intuito ecco se non c'è una pista se non c'è l'intuizione nelle prime 48 ore è impossibile poi risolverlo ed è verissimo e si accompagna anche ad un'altra massima che non esiste il delitto perfetto semmai esiste l'indagine imperfetta e il call case è sempre il frutto di un'indagine imperfetta senti ma è anche vero che diciamo in linea teorica ma non tanto con le nuove tecniche di investigazione oggi si potrebbero riaprire una quantità di casi che sono diciamo finiti negli archivi ma il problema è che soprattutto in un paese come l'italia dove l'indagine è affidata o alla piccola compagnia dei carabinieri o al piccolo commissariato locale ad una procura che non ha gli strumenti perché non ha l'esperienza perché magari in un posto specifico non sono avvenuti molti delitti per cui è chiaro che non c'è una competenza specifica in questi casi quando ci si ritrova davanti a un fatto di sangue eclatante mancano proprio gli strumenti in italia manca per esempio una forza di polizia come l'fbi negli stati uniti non viene inviato il super poliziotto con la grande competenza che in grado di sbrogliare la matassa il tutto viene affidato a investigatori locali che ripeto spesso non hanno la competenza per affrontare questo tipo di caso senti anche dal punto di vista dei serial killer non abbiamo diciamo siamo ben posizionati nella classifica mondiale così eppure sembra che diciamo li abbiamo siano stati arrestati tutti in italia secondo i criminologi sono attualmente attivi tra i tre e i sei serial killer perché non li individuiamo perché non riusciamo a collegare i vari delitti perché magari colpiscono delle categorie che sono quasi predestinate all'omicidio per esempio le prostitute quando viene ritrovata una prostituta in un fosso è più facile pensare al racket o al gesto di un cliente violento che ha un serial killer che quindi agisce con altri impulsi altri stimoli e poi è probabile che i nostri serial killer agiscono con intervalli di tempo troppo ampi nel tempo e non sono organizzati nel senso non hanno un modus operandi tale da renderli identificabili immediatamente questo ovviamente rende più difficoltosa un'indagine però tu scusa insomma quando hai cominciato a parlare di serial killer e hai citato per esempio le prostitute che sono state uccise in qualche modo lascia intendere che esistono casi e casi di serie a e di serie b cioè su alcuni che fanno molto più clamore diciamo vengono spese più forze più energie su altri tutto sommato ci si fermano appena sembra che la pista si sia esaurita è così esattamente così proprio così nel senso che esistono davvero vittime di serie a e vittime di serie b inutile nasconderselo insomma e ci sono dei casi specifici in cui la vittima è talmente predestinata a questo tipo di ruolo che poi l'indagine si sgonfia in pochissimo tempo che è un po scusami un po quello che viene detto in america a proposito dei bianchi e dei neri no anche se adesso le cose si sono in parte ribaltate perché con l'uccisione di quel giovane studente italiano abbiamo visto che poi i medi americani si sono comportati con grande indifferenza beh ogni epoca paga ovviamente un dazio anche culturale no è normale che questo si rifletta anche sui crimini e sul modo di indagare determinati crimini il caso di meredith per te è un cold case chiuso cioè è un cold case oppure un caso chiuso secondo me è un caso chiuso perché perché io ho approfondito molto la vicenda di di amanda e raffaele e sono convinto come i giudici che siano assolutamente innocenti e quella sia un'indagine montata ad arte e assolutamente priva di di basi lì abbiamo un colpevole accertato anche dei tribunali di chiede che putacaso non ha parlato per tanti anni si decide a parlare e perché secondo te non gli conveniva a starsene zitto visto che è uscito anche in anticipo mi vuoi far prendere una querela stasera no casomai la prendiamo in due guarda ma io penso che ci sia molto interesse da parte di chi ha finito di scottare la pena ci sia molto interesse a rendere come dire a mettersi sul mercato ecco questo in questo senso una verità può essere può essere molto interessante e non mi fa entrare lo specifico però però non è che mi puoi lasciare così eh mettersi sul mercato cioè vuol dire vediamo che tira che tira in mezzo amanda in questo caso è chiaro che sta cercando di attirare l'attenzione dovrebbe visto che è stato riconosciuto colpevole dovrebbe starsene tranquillo godersi la libertà che ha riconquistato in questo momento senza riapirire vecchie ferite e soprattutto senza tirare in ballo una ragazza che ha già pagato abbastanza che è stata riconosciuta da un tribunale che non è il tribunale mediatico non è neanche il tribunale dell'opinione pubblica ma un tribunale del del dello stato italiano e è stata riconosciuta innocente e non è neanche il tribunale delle anime io ricordo il titolo del tuo ultimo libro la casa senza ricordi che mi pare che sta volando in classifica in questo momento lo lascio dire a te questo va bene grazie donato grazie grazie e andiamo dentro al caso di emanuela orlandi noi non l'abbiamo mai mollato lo abbiamo sempre tenuto sotto osservazione abbiamo sempre tenuto una luce accesa perché è una storia drammatica è una storia soprattutto che ha provocato una sofferenza enorme alla sua famiglia ma soprattutto è una storia dove non c'è verità e quindi non c'è stata ancora giustizia e stiamo parlando di una ragazza di 15 anni che all'epoca appunto svanì nel nulla a roma e un giallo una storia nella quale è entrata a pieno titolo la santa sede il vaticano più papi la banda della magliana lo ior la banca del vaticano che all'epoca era guidata da monsignor marcinkus insomma davvero un giallo molto intricato estremamente imbarazzante per una serie di poteri che evidentemente di fronte a questa storia non hanno ritenuto finora di raccontare tutta la verità noi ve la facciamo vedere in due minuti ma poi abbiamo degli ospiti per parlarne nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983 la quindicenne emanuela orlandi cittadina vaticana figlia di un funzionario della casa prefettizia esce dalla lezione di musica all'oratorio di santa pollinare nel centro di roma e dopo aver accompagnato un'amica alla fermata dell'autobus sparisce nel nulla i familiari non credono a una fuga volontaria e si attivano da subito nelle ricerche tappezzando la città di manifesti con la foto di emanuela nei giorni successivi la famiglia riceve una serie di telefonate da parte di ignoti che dicono di poter fornire notizie sulla sorte della ragazza messaggi che però agli investigatori appaiono più come tentativi di ricatto che aiuti concreti e alle indagini due settimane dopo durante l'angelus giovanni paolo secondo interviene sul caso usando parole che non lasciano spazio a dubbi condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso emanuela dunque è stata rapita e tuttavia nessuna richiesta di riscatto è ancora pervenuta alla famiglia la notizia è sulle pagine dei giornali di tutto il mondo ma della ragazza nessuna traccia è chiaro che il caso di emanuela è diverso da quello di tutte le altre persone che pure spariscono ogni giorno più che un fatto di cronaca sembra un affare di stato che col tempo chiamerà in causa molte delle ombre che hanno attraversato quegli anni complicati della storia italiana dallo scandalo dello ior al crack del banco ambrosiano dalla banda della magliana a cosa nostra dall'attentato al papa alle manovre dei servizi segreti italiani e stranieri il destino di emanuela viene così risucchiato in un buco nero in cui si perdono una lunga serie di notizie smentite depistaggi parole e omissioni omissioni soprattutto in gran parte ad opera del vaticano che ha dimostrato di sapere molto più di quanto abbia lasciato trapelare e soprattutto ha dato l'impressione di essere direttamente coinvolto nella vicenda perlomeno in quanto destinatario di ricatti da parte di chi attraverso manovre oscure ha cercato di trarre vantaggi sulla pelle di emanuela che vuole somminenza cardinoli 11 58 ha detto sì attendo un momento sì 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 passo subito ma come è noto nessuno dei tre papi che hanno regnato dalla scomparsa di emanuela ha mai manifestato l'intenzione di fare quanto in suo potere e cioè molto per diradare la fitta nebbia che ancora avvolge questa vicenda è questo uno dei pochi elementi di certezza che emerge da una lunga storia giudiziaria che attraverso colpi di scena rivelazioni e ancora telefonate anonime a trasmissioni televisive non ha mai portato quelle prove a lungo cercate prima dai genitori e poi dai fratelli di emanuela fino all'archiviazione definitiva del 2016 che però appare più una resa della giustizia italiana che un avvicinamento alla verità perché gli indizi e i sospetti sono ancora molti così come molte le domande senza risposta a cominciare da quella che riguarda la trattativa mai decollata tra il vaticano e la procura di roma che ha preceduto l'archiviazione del procedimento sulla scomparsa di emanuela dottor giancarlo capaldo buonasera intanto grazie perché credo che sia rivolta che lei va in uno studio televisivo no in questi contesti sì in questo contesto senta lei è stato il penultimo magistrato a indagare sul caso di emanuela orlandi perché l'ultimo di fatto è stato il procuratore capo che ha prima avvocato a sé e poi archiviato l'inchiesta è così? sì io me ne sono occupato fino al momento in cui il procuratore Pignatone ha ritenuto di dover archiviare l'inchiesta l'inchiesta senta lei ha scritto un romanzo la ragazza scomparsa questo è questa è la copertina che è un romanzo a tutti gli effetti però voglio dire all'interno la storia riconoscibilissima tra le righe è quella di Emanuela Orlandi lei si è sentito più libero di poter scrivere quello che non ha potuto dire quando era magistrato attraverso un romanzo? sì ho scritto un romanzo perché ho pensato che nella mia esperienza di magistrato c'erano diversi casi che meritavano un'attenzione differente uno di questi casi è sicuramente quello di Emanuela Orlandi ho preferito la strada del romanzo per discutere, parlare, approfondire, anche gettare delle sensazioni sull'argomento piuttosto che un saggio giudiziario di riscrizione del processo o di valutazione di prove dal punto di vista tecnico o giuridico perché il romanzo in realtà ti consente di rapidamente sintetizzare delle situazioni che altrimenti processualmente richiederebbero molto tempo mi sono sentito quindi più libero ma il mio scopo era quello di riscrivere una storia complessa di un ambiente complesso non necessariamente tutto vero ma nel nocciolo di quello che io avevo capito e che secondo me diciamo costituisce la verità di quel caso allora siccome naturalmente si tratta di un romanzo giallo non possiamo raccontare come va a finire però ci sono due aspetti di questo romanzo che lei ha scritto che secondo me sono particolarmente importanti il primo è il contesto, cioè qui si parla nel romanzo chiaramente di un giro di pedofilia cioè di un giro nel quale sarebbe stata risucchiata Emanuela rimasta viva forse per un certo periodo, è questa l'ipotesi? Il romanzo cerca di gettare una luce su alcuni difetti molto gravi che hanno dei mondi, il mondo del Vaticano che non vuole riscrivere compiutamente e risolvere in un solo difetto quello della pedofilia, il mondo del Vaticano non è questo certo il mio pensiero, ma bisogna avere il coraggio e mi sembra che sostanzialmente negli ultimi anni anche il Vaticano sotto questo prefilo si è mosso, avere il coraggio di capire che cos'è che è distorsivo il lato oscuro Il lato oscuro, perché c'è questo lato oscuro in un contesto così importante per quasi un miliardo di persone come il Vaticano? Ma quindi possiamo dire che Emanuela è finita dentro il lato oscuro, questo lato oscuro di cui stiamo parlando? Ecco, Emanuela, è secondo me un sospetto, perché non posso parlare di una prova, ma di un sospetto significativo che nasce dal mettere insieme una serie di elementi, il sospetto che sia una delle vittime di questo sistema oscuro Senta, dottor Capaldo, poi sulla scomparsa di Emanuela, su quello che presumibilmente è accaduto perché una delle ipotesi che lei ha fatto anche durante la presentazione di questo romanzo è che Emanuela possa essere rimasta viva per un certo periodo di tempo, dopo la sparizione Sì, questa conclusione io la deduco per chi do attendibilità alle dichiarazioni rese da una testa, Sabrina Minardi che era la compagna di Enrico De Pedis, che era la compagna per una parte di Enrico De Pedis ed è la testimone che ha messo in evidenza, in collegamento, la banda della Magliana col caso di Emanuela Orlandi Quindi secondo lei è attendibile quello che diceva? Tenga conto che questo collegamento in realtà c'è stato fin dall'inizio dell'istruttoria, nei primi anni C'era qualcuno nell'ambito della polizia che aveva pensato che la banda della Magliana centrasse con questa storia Poi questa pista è stata diciamo abbandonata ma anche se vi erano degli identikit fatti sulla base delle testimonianze raccolte dagli amici di Emanuela che ci portavano all'identificazione di alcuni personaggi della banda della Magliana Poi però si arriva a un punto diciamo di svolta quando qualcuno segnala il fatto che Enrico De Pedis ucciso nel 90 da un killer qui a Roma è sepolto nella Basilica di Santa Pollinare che è nello stesso complesso dal quale è sparita Emanuela Sì, certamente diciamo questo accadimento, la sepoltura di un boss della Magliana anche se ci si tiene sempre a dire che non è stato mai colpito da una sentenza definitiva anche per la prematura morte perché lui è stato ucciso nel 90 Però lo sapevano tutti chi era Però è un personaggio che è riconosciuto unanimamente come uno dei grossi esponenti della banda della Magliana E faccio vedere proprio su questo specifico punto della sua sepoltura una piccola clip E poi continuiamo a parlare Renatino De Pedis ucciso nel 1990 viene sepolto proprio qui nella Basilica di Santa Pollinare da dove è scomparsa Emanuela E questo grazie ad una dispensa speciale dell'allora presidente della CEI la conferenza episcopale italiana il cardinale Ugo Poletti E' davvero incredibile perché del passato criminale di Renatino nella banda della Magliana si sapeva già tutto Il presidente della conferenza episcopale italiana dà una dispensa speciale per tumulare De Pedis dentro una basilica E' quasi una cosa da non credere E' una cosa inspiegabile Oppure spiegabilissima Oppure spiegabilissima a seconda dei punti di vista Qualcuno dice che Ugo Poletti doveva dei favori a De Pedis Qualcuno ancora intercettato Un esponente della banda della Magliana Ha detto che a Poletti furono pagati 600 milioni di euro per questo regalo Don Pietro Vergari che invece era il titolare della basilica E che mandò una lettera a Poletti chiedendo Che fu indagato poi E fu a sua volta indagato per questa vicenda Dice che De Pedis era stato molto buono con i poveri della basilica Aveva fatto molte opere di misericordia Il punto è che alcuni alti esponenti della banda della Magliana Intervenuti successivamente nel 2006 Antonio Mancini nel 2009 Abbatino Raccontano invece che De Pedis avrebbe avuto un compito direttamente dal Vaticano Per rapire la ragazza O se non direttamente dal Vaticano Per mandare dei messaggi al Vaticano Ovviamente queste sono informazioni di relata refero Sia Mancini sia Abbatino Non erano presenti sul posto E dicono che loro non hanno mai partecipato a questo sequestro Abbatino parla di Pippo Calò Parla dei rapporti tra Casaroli e De Pedis Casaroli era il segretario di Stato Rapporti legati agli affari Rapporti che De Pedis avrebbe ereditato da Giuseppe Pucci Che era il negro Il capo che poi De Pedis sostituì alla sua morte Il capo della banda Allora questo diciamo per far capire la eccezionalità di questa cosa che ha dell'incredibile Lì dentro neanche i cardinali vengono sepolti Ci finisce uno Il capo della banda Diciamo dei testaccini Di una delle due fazioni della banda della Magliana Sì È un episodio inspiegabile E inspiegato O meglio Spiegabile facilmente Attraverso quella ipotesi Di collusione Di contatti Di De Pedis Con un certo mondo In particolare con Don Vergari I cui contatti sono ammessi Don Vergari Il priore della Basilica Il priore della Basilica I cui contatti sono ammessi Ritornando alla domanda che mi ha fatto Mi scusi E poi non soltanto E anche con Monsignor Marcinkus Che in quel momento era Il deus ex machina Il banchiere di Dio Dello Ior Della banca del Vaticano Sì Certamente Anche se bisogna appunto comprendere Che De Pedis È quello che Almeno diciamo Nella valutazione complessiva Che io Come tanti altri Danno della vicenda Della banda della Magliana È quello che ha fatto fare Alla banda della Magliana Un certo tipo di salto Un salto di qualità Un salto di qualità Facendo diventare La banda di criminali Rapinatori Spacciatori di droga A un'agenzia del crimine Usata dal mondo politico Da una parte Del mondo politico Per sistemare E finanziario Politico e finanziario Che poi i due bracci Sono spesso collegati Per sistemare delle problematicità Che sorgevano volta per volta Dove per problematicità Si intende anche Ammazzare qualcuno Perché il tentativo Di ammazzare Rosone Il vicepresidente Della Della banda Attraverso Diciamo Sì Di Calvi A Milano Che poi finisce male Ma insomma È una delle cose Finisce male È uno dei Il morto È bruciati È bruciati È bruciati Che è uno dei capi Della banda della Magliana Però questo Volevo rispondere Solo alla domanda Diciamo Perché ritengo Che sia stata Riconsegnata Al Vaticano La ritengo Non per una mia Valutazione Autonoma Ma perché La Minardi Parla Nelle sue Deposizioni Di questa Stranissima Circostanza Cioè Riconsegnata Emanuela Al Vaticano A un monsignore A un monsignore Vicino al Vaticano Parla di questo Questo episodio Di cui Fino a quel momento Nessuno ha mai parlato E nessuno neanche L'ha mai ipotizzato Perché tutti hanno Ipotizzato In genere Che Emanuela Orlandi Era rimasta Vittima Di O Di qualche Balordo Balordo Oppure di un sistema Che è comunque Diciamo Collegata A qualche festino In cui era stata Trascinata Senza la sua volontà Finito male E poi Finito male Ma nessuno Aveva mai Immaginato Che potesse essere Stata rapita Per poter Avviare Una trattativa E poi Che questa trattativa Potesse essere Andata a buon fine Con la riconsegna Di Emanuela Lei ha Detto una parola Chiave Trattativa Perché cosa Succede Succede Che nel momento In cui esplode Il caso Di De Pedis Sepolto Dentro la basilica Di Santa Pollinare Questa cosa Per il Vaticano E stiamo però Parlando di moltissimi Anni dopo Diventa Un caso Di grande Imbarazzo E a quel punto Che succede A quel punto Accade Che io mi ritrovo A essere Procuratore E reggente Di Roma E Chiedono Di conferire Con me Due Personaggi Del Del Vaticano Due Trelati Due Non voglio dare Indicazioni A riguardo Due personaggi Importanti Che ricoprivano Cariche Non due sacerdoti Qualunque Cariche Importanti In quel momento Importanti Anche Sotto il profilo Diciamo Di queste dimensioni Come dire Di queste dimensioni Politico-criminali Investigative O comunque Di necessità Di rapporti Con altre Con altre Con altre Realtà Siamo nel periodo Del papato Ratzinger Siamo nel periodo In cui il papa Era Ratzinger E siamo A cavallo Tra il 2011 E il 2012 Queste due persone Vengono ricevute In procura Come lo avevano chiesto Avevano il diritto Di chiedere E sostanzialmente Si lamentano Con me Perché il Vaticano È A loro avviso Sottoposto Continuativamente A una sorta Di discredito Da parte Della stampa Per il suo Presunto E non vero Ovviamente Diciamo Secondo loro Sostenuto Il coinvolgimento Nella vicenda Di Emanuele Orlandi E nella vicenda Della Sepoltura Di De Pedis E chiedevano Diciamo Come A mio parere Le indagini Potessero Portare A una conclusione Che risolvesse Diciamo Il problema Del Vaticano Che risolvesse Sostanzialmente Il pericolo Il Vaticano Di essere sempre Additato Come Diciamo Una bestia nera E anche Per il collegamento Con la tomba Di De Pedis E quindi L'importanza Che il Vaticano Riteneva Della Resumazione Del corpo Di De Pedis Per eliminare Sostanzialmente Da Sant'Apollinare Un cadavere Troppo Incommodante Traduco Per cortesia Aprite quella tomba Tirate fuori Quello che c'è Così noi Chiudiamo Questo capitolo Che ha a che fare Con la sepoltura Di questo signore Lì dentro L'ho detta In maniera Molto sintetica Sì Il Vaticano Gradiva La La Resumazione Rapida Del In cambio Io Loro presente Che la Resumazione Non era Una priorità Delle Indagini Perché Era difficile Immaginare Così come Molta parte La stampa In quel momento Diceva Che Andava aperto Perché era possibile Che il corpo Di Emanuela Fosse nella stessa Tomba Che Di De Peris Vista la distanza Tra i due episodi L'83 Emanuela E 90 E De Peris E questo era Abbastanza improbabile Però io dissi Insomma L'importanza In questi casi Che mi è dato La mia esperienza Diciamo di magistrato Che si è occupato Delle giunte militari Sudamericane E quindi La scomparsa Di decine Di migliaia Di Desapresidos E che I parenti Delle vittime Vogliono Trovano pace Anche quando Arrivano Ad avere Purtroppo Il cadavere Del loro Amato Del loro caro E occorre Quindi diciamo Quello è un passaggio Molto importante Perché i parenti Che hanno avuto Anche figli Torturati Uccisi Ma con il cadavere Ritrovato Se ne hanno Insomma Hanno raggiunto Una pace Se ne hanno Fatte una ragione Come si dice E quindi Nel caso specifico Quindi nel caso specifico Quindi anche questo Che accadesse Per La famiglia Orlandi Io penso Che sarebbe Un modo Per sostanzialmente Levare l'attenzione Su tutto E qual è la reazione Di questi due Signori? Queste due persone Diciamo Presero atto Di questo Da questo mio punto di vista Si riservarono Di sentire Alcune persone Più in alto Nella gerarchia E di darmi una risposta La risposta Avvenne Qualche settimana dopo E fu positiva E fu positiva Per cui A quel punto Aspettavo E speravo Di trovare una soluzione E un passo avanti Mi scusi La devo fermare Su questo Perché il punto è cruciale Cioè La disponibilità Era quella Di Come dire Fare in modo Che il corpo di Emanuela Fosse ritrovato La disponibilità Era quella Che Di Di Mettere A disposizione Ogni loro Conoscenza Ogni loro indicazione Per arrivare A questa conclusione Va da sé Che se io do Una disponibilità Del genere Devo anche sapere Dove è il corpo Questa è una deluzione Ho capito Però È una deluzione Che ho fatto anche io In quel momento Ma è una deluzione Che nasceva Dalla Da quello Che ci eravamo detti Quindi La necessità Aggiungo io Forse anche Dal titolo Che queste persone Rappresentavano Anche Certo Queste Effettivamente In quel momento storico Nel Vaticano C'era C'era stato Un Un cambiamento L'epoca L'epoca Di Papa Ratzinger La fermo un attimo Do la pubblicità E continuiamo Perché stiamo Cioè Questo è un punto Che tra l'altro Lei racconta Nel romanzo Anche se Con nomi diversi Eccetera Ma è un punto importante Pubblicità Allora Ricapitolo brevemente Siamo nel periodo Del papato Ratzinger A un certo punto Si scopre Che Renatino De Pedis Uno dei capi Della banda Della Magliana E' sepolto Nella basilica Isanta Pollinare Questo crea Grande imbarazzo Al Vaticano Due persone Che secondo me Sono due prelati Però Lei ha detto Due persone Senza volerle Identificare Vengono da lei In procura E Chiedono Sostanzialmente Alla magistratura Di Aprire questa tomba In modo poi Da Consentire a loro Di liberarsi Di questa Di questo ingombro Diciamo così Che hanno nella basilica Che crea un imbarazzo Evidente Conte Contemporaneamente Danno una disponibilità A Diciamo Fare il possibile Perché la famiglia Orlandi Ritrovi il corpo Di Emanuela Ho aggiunto io Se io do una disponibilità Del genere Evidentemente Devo sapere dove Questo corpo sta Io credo di avere In collegamento Pietro Orlandi Pietro C'è Pietro Mi senti Pietro Allora Beh insomma E non faccio Presentazioni Perché sai benissimo Chi è il dottor Capaldo Il dottor Capaldo Sa chi sei tu Abbiamo anche L'avvocatessa Sgro collegata Fra un attimo Ci parliamo Insomma Hai sentito Quest'ultima La mia sintesi Ma anche le parole Del procuratore Sì sì Ho seguito La pretensione E quindi E quindi Dico che Da 2015 Cerca Con il dottor Capaldo Chiedo se mi alzano Il volume in studio Per favore Mi senti Sì sì Oggi Io dal 2015 Da quando Diciamo Ho avuto un rapporto Un po' più stretto Con il dottor Capaldo Ci siamo incontrati Molte volte E privatamente Abbiamo spesso Parlato di questo Di questo famoso incontro Di questa situazione Che secondo me È gravissima E purtroppo Io mi auguro Che il dottor Capaldo C'è una di notare Un passo importante Un passo avanti Molto importante Perché sono passati 38 anni E purtroppo Nonostante ringrazio Il dottor Capaldo Per come ha raccontato La cosa Le nostre inconsiderità Di la situazione È molto più italiana Io mi auguro Che questo Che il dottor Capaldo Possa in qualche modo Fare una deposizione Qui stiamo parlando Degli autoraggi Di Razziger Inevitabilmente Quel famoso Va bene Che è arrivato Al dottor Capaldo È ovvio Che è arrivato Da Papa Che è arrivato Da Razziger E non è possibile Accettare questa cosa Qui c'è La missione Di C'è la missione Di essere Conoscente Di come Sono Dottor Capaldo Pietro 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 Scusami Pietro Scusami Non so se tu stai usando Gli auricolari Perché arriva La tua voce Arriva un po' impastata No Ok Allora forse Devi parlare vicino Al microfono In maniera che sia più chiaro Quello che stai dicendo Non si è sentito Sì sì Certo Però Volevo Diciamo Che fosse più chiaro Ancora Quando parlavi Sì Dicevo che Secondo me È molto importante Dopo 18 anni Secondo me Si può arrivare Ad una verità Anche se è parziale E per la giustizia Noela Perché la cosa grave Quando hanno detto Al Dottor Capaldo Che Gli responsabili I nomi dei responsabili Non potranno mai uscire La verità Non potrà Mai uscire E questo Questo non potrà mai uscire Vuol dire che loro Non conoscono Totalmente Se per dire Non potrà mai uscire Evidentemente Perché la conoscono Tuttamente Dottor Capaldo Vuole rispondere A Pietro Non Ritengo che La verità processuale È quella che Deve trovare La procura Rispetto a questa Indagine La verità In senso assoluto È sconosciuta A tutti quanti È sconosciuta Anche a me Certo Io Nel romanzo Ho raccontato Una verità Che è quella Che è conforme Alla mia Alla mia idea Alla mia sensazione Alla mia Il mio sentire Il mio sentire E la mia acquisizione Anche la mia Attività di magistrato La mia valutazione Degli elementi probatori Che ci sono stati Che sono stati acquisiti Nel corso Mi mettete per favore In collegamento L'avvocatessa Sgro Buonasera Buonasera Ha sentito anche lei L'ho sentito anch'io E devo dire che Se da un verso Sono contenta Perché finalmente Il dottore Capaldo Ha fatto pubblicamente Queste dichiarazioni D'altro canto Le assicuro Che sono scontenta Perché le fa A tanti anni di distanza Da quei fatti E peraltro Consideri che Di questa vicenda Come diceva poco fa Pietro Si se ne parlava E non solo Si sussurrava Già da qualche anno Consideri Dottor Purgatori Che nella prima Denuncia di scomparsa Che io feci In Vaticano Parlai di questo Argomento Come il quid novi Il fatto nuovo Il fatto nuovo Su cui indagare Quindi io Già avevo fatto presente Questa vicenda In Vaticano Nel 2017 L'ho rifatta presente In una nuova denuncia Querela Nel 2019 Chiedendo nuovamente Che venisse ascoltato Il dottore Capaldo L'ho richiesto Qualche giorno fa Dopo le prime Dichiarazioni pubbliche Del dottor Capaldo Ai magistrati Vaticani Affinché finalmente Almeno dopo Quattro anni Di mia insistenza Lo possano convocare E possano chiedergli Chi ha incontrato Per quale motivo Gli emissari vaticani Sono andati in procura Dal dottore A parlare E a chiedere Riguardo alla vicenda Di Manolo Orlandi A che titolo Mandati da chi E che spiegassero Dettagliatamente Tutto ciò Che si sono detti Col dottore Capaldo In lingua vaticanese Quindi che lo traducessero In lingua italiana Comprensibile Per gli inquirenti Dottor Capaldo Vuole dire qualcosa? Cioè lei è Come dire Se domani La convocassero Per ascoltarla Lei andrebbe? Certamente Io ho sentito Allora qui c'è un punto Che è anche Mi scusi Che è anche la mia Evidentemente Direi molto più Che curiosità Cioè lei conosce L'identità Di queste due persone Chiamiamole persone Io le chiamo Prelati Ma insomma Voglio dire Sono due persone Che evidentemente Sanno di questa storia Molto più Di quello Che non è stato raccontato Non è stato detto E quant'altro E insomma Voglio dire Se si riuscisse Questo è il passo avanti Che chiede Pietro Dico bene Pietro? Esatto Esatto Rispondo Sentiamo il Dottor Capaldo Rispondo facilmente A sua domanda Se fossi Convocato L'autorità Vaticane Lei andrebbe Io andrei E spiegare Diciamo se Nell'ambito Di un'attività Di un'attività Giudiziaria seria Certo Certamente Senta queste due persone Non do il nome Come dire In pasto In pasto Diciamo All'opinione pubblica Generica Perché 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 Mi sembrerebbe Diciamo Come dire Scorretto Rispetto A quello Che è avvenuto Che lei sappia Le cose Che posso non dire Di rispetto A questa Vicenda Sono Tre I nomi Delle persone Non posso dire In questa sede Ma direi In una sede Per esempio Di audizione Formale Chi sono queste persone Se erano presenti Oltre a me A queste due persone Altre persone All'evento Perché c'erano altre Non posso dirlo Non lo dico E E E se per caso Il colloquio È stato registrato A queste tre domande Io non rispondo Risponderò Soltanto A chi Ha il titolo Per chiedere Come dire Ha aggiunto Un paio di Un paio di notizie E mica da poco Cioè Se c'è una registrazione Addirittura No Ho detto Che non Che non Allora le faccio la domanda Non rispondo Le faccio la domanda In un altro modo Se Quel colloquio Mi scusi Se quel colloquio Per ipotesi Fosse stato registrato In procura Sul territorio italiano Chi lo doveva registrare La procura Di Roma Non certo il Vaticano Certo Lei capisce Lei dice una cosa Io le faccio immediatamente Una domanda No perché È ovvio che Non credo che Vengano due prelati Con il registratore Il registratore Se mai sta già in procura Non le dico Che in procura C'era il registratore Beh c'è Ci sono i registratori Ci sono i registratori No Le dico Che cos'è che Io sono disposto Come autore Come scrittore A dire In una In una trasmissione È quello che Cioè l'ipotesi Che faccio io È che per esempio Lei non fosse L'unico magistrato presente È possibile È una possibilità È una possibilità Astratta Anche a questa domanda Io non rispondo Ho capito Ci sono due passaggi Secondo me Non da poco Pietro Allora Primo La Diciamo Le dichiarazioni Che ha fatto Il procuratore Ma soprattutto La sua disponibilità A renderle Formalmente In un luogo Naturalmente Appropriato Quindi diciamo E questo è la cosa giusta Certo E questo probabilmente L'importante È fare quei nomi Quei nomi Nella sede Appropriata È la cosa più giusta L'importante È farlo E il segretario Dottor Cavaldi Lo farà Perché ormai È la giustizia La sua strada Non può fermarsi Adesso Sì Anche se Devo dire Che Su queste cose Che ha detto Il dottor Capaldo Immediatamente È scattata La cortina Del silenzio Che ha Ecco No perché Bisogna dirlo Cioè Sono ancora Non le chiedo i nomi Sono ancora Vive queste due persone Secondo lei Sono ancora Diciamo In attività Sono persone vive E hanno fatto Anche carriera Magari Vabbè Avvocatessa Sgro Beh insomma Mi pare Un bel passo Davanti Questa Certo Queste Sono informazioni Interessanti Anche se In realtà Io Continuo a chiedermi Per quale motivo Due persone Vengono ricevute Nella procura Di Roma E negli atti Giudiziari Non c'è una sola riga Di questo incontro Quindi questo Vorrei chiederlo Al dottore Capaldo Per quale motivo Non è stato verbalizzato All'unità Riguardo Rispondo All'avvocato Dovrebbe sapere Che le volte Che l'avvocato Viene dal magistrato E per un colloquio Non è che fa parte Degli atti processuali Non tutti i contatti Fanno parte Degli atti processuali Gli atti processuali Riguardano Gli imputati Testimoni Non riguardano Persone Che hanno veste Per la loro qualità A essere sentiti Come gli avvocati E che non fanno Non vengono Registrati Il magistrato Che riceve L'avvocato Non fa un atto Perché riceve lei Che parla di un processo O chiede Di una indicazione processuale O di un sviluppo processuale O vuole dare delle indicazioni Al procuratore Per come potrebbe Il procuratore Interessarsi Approfondire Certi aspetti Queste cose Rimangono Nell'ambito Delle attività Tecniche Delle attività Che sono Perfettamente Legittime C'è un ulteriore passaggio Pietro Tu puoi restare Ancora collegato? Sì Bene E anche l'avvocatessa Sgro Cioè Il passaggio successivo Però qual è? Cioè Diciamo che c'è Questa disponibilità Liberateci dall'imbarazzo Io intanto chiedo Alla regia Anzi Li avverto Che Mi sto mangiando Il tempo In cui noi avremmo dovuto Diciamo Ricapitolare La storia di Emanuela Ma a me sembra molto più Clamorosa e importante Quello che stiamo dicendo Quindi Vado avanti Succede che c'è Questa disponibilità Diciamo Da parte di due persone Che parlano evidentemente A nome anche del Vaticano Perché se no Non Ma poi Toglieteci Questa tomba Diciamo Datici la possibilità Di togliere la tomba Dalla chiesa di Santa Pollinare Noi faremo di tutto Per far trovare Il corpo ad Emanuela Ma poi Questa trattativa Come la vuole chiamare lei? Questa disponibilità Salta Salta Finisce Perché? Non è una trattativa Perché non è nata Come una trattativa È un inizio di trattativa È un'istanza È un'istanza È un'istanza Che ha avuto una risposta Un'istanza Come dire Di parte Che ha avuto una risposta Sì Però si interrompe Questo diciamo Si interrompe Questo avvicinamento Per riuscire ad arrivare A una soluzione Si interrompe Si interrompe E perché si interrompe? Perché si interrompe Fa parte Dei tanti misteri umani E dei casi Probabilmente Andrebbero studiati i tempi E le modifiche Che sono avvenute In quei mesi Provo a usare La mia banca dati personale Perché pochissimo tempo Diciamo Qualche giorno dopo Questa possibilità L'inchiesta Viene avvocata Dal procuratore capo Pignatone No, no, no Possiamo Dal punto di vista Che poi Scusi Che poi Subito dopo Essere andato in pensione È diventato presidente Del tribunale vaticano Lo dico perché È una Diciamo Per dovere di informazione Le novità Che avvengono Le ho detto Che questo colloquio E questi due Questi due Contatti Avvengono tra il 2011 E il 2012 I due Eventi che accadono Nello stesso periodo di tempo È che Io da procuratore reggente Diciamo Termino La mia reggenza Perché viene appunto Il procuratore Pignatone E quindi Cambia Diciamo un po' L'assetto Della dirigenza Della procura E dall'altra parte In Vaticano In Vaticano Diciamo Si iniziano Si iniziano Una serie di Di grandi manovre O comunque Di scontri Sotterranei Come Costume Probabilmente In quel Contesto Intorno Intorno a Papa Ratzinger Noi Sappiamo poi Che il Papa Ratzinger Dal lì a un anno Neppure Si dimetterà Lei mi sta Stigando A farle Delle domande Non da poco Perché Per esempio Io le chiederei subito Dal suo punto di vista Un'opinione Lei avrà un'opinione Secondo lei Le dimissioni Di Papa Ratzinger Potrebbero aver avuto A che fare Anche con questa Vicenda di Emanuela Per me Non ho Diciamo La competenza Per esprimermi A riguardo No neanch'io Ma soprattutto Non ho la conoscenza Posso immaginare Per quello che È avvenuto Nella Chiesa Successivamente E sta avvenendo Ancora oggi Nella Chiesa Con Diciamo Questo tentativo Di riportare Alla luce Una serie Di distorsioni Avvenuti In tutto L'ambiente Vaticano Che è Come dire Probabilmente È nato In quel periodo Ed è poi Proseguito Attraverso La gestione Di un altro Papa Quindi Che Non L'episodio In sé Di Emanuela Ma che Il contesto Complessivo Possa Aver Determinato O contribuito A determinare Quella decisione Del È una possibilità È una possibilità Che io Come persona Però ribadisco La mia Assoluta Incompetenza E non autorevolezza Nel campo Del Vaticano Non sono un Vaticanista Non sono un Conoscitore Del Vaticano Ma come Pensatore Libero Potrei Immaginare Senta A un certo Punto Escono fuori Delle carte Che si Riferiscono Al caso Di Emanuela In queste carte C'è scritto Che addirittura Emanuela Sarebbe rimasta In vita Per anni E che In Vaticano Avrebbe Qualcuno Avrebbe pagato Per Tenerla Diciamo Segregata Si può dire Segregata E addirittura Avrebbe pagato Poi per La sepoltura Dopo moltissimi Anni Queste carte Diciamo Presentano Varie Vari aspetti Di poca Credibilità Ma perché Secondo lei Anche se fosse Completamente Un falso Viene fatta Questa operazione Di far uscire Questo dossier Che riguarda Emanuela Io credo Che Bisogna Essere In possesso Di una strumentazione Di traduzione Di quello che avviene In Vaticano Credo che Molte cose Possono essere Avvenute Come Messaggi Indirizzati A persone Che sapevano Percepire Che si trattava Di un messaggio Messaggi di ricatto Messaggi Come dire Indirizzati Sicuramente A ottenere qualcosa Quindi Messaggi di ricatto Ma probabilmente Non necessariamente Veri Ma può darsi Che Contenessero E questa è la mia ipotesi Un qualche Minimo di verità Cioè il messaggio Di per sé È Probabilmente falso Però contiene Un minimo di verità Che È come dire Io ti mando Questo messaggio Per dire Che io so Quindi Potrei dirti La verità Certo Poiché voglio dirtela Ufficialmente Te la dico Attraverso un messaggio Che è falso E quindi È un codice Che noi conosciamo È un codice Che tu sai tradurre Altri non sanno tradurre E altri Quindi si fermano Ai documenti Che parlano Del 97 E della Manuela Orlandi Un minuto Avvocatessa Sgro Lei che cosa Che Diciamo Dal punto di vista Proprio Della sua attività Ha di fronte Un muro Continua ad avere Un muro Come le ho detto Io mi sono rivolta Alle autorità Vaticane Affinché il dottor Capaldo Venisse Ascoltato E per tornare A quello che ha detto Lui poco fa Siccome non sono Minimamente d'accordo Con lui Sul fatto che Su una vicenda Così tanto grave Non Vi sia traccia Nel Nel fascicolo Mi sono anche rivolta Al consiglio superiore Della magistratura Ho fatto distanza La prima commissione Affinché Possa verificare Rispetto alla vicenda Di Manuela Quali Quali colloqui Sono avvenuti In relazione A Questa presunta Trattativa Se ci sono stati Chi sono i magistrati Coinvolti E se vi sono Delle responsabilità Io credo Che dopo 38 anni Potrei aggiungere Se c'è anche Una registrazione Perché mi pare di capire Certo A questo punto Sì A questo punto Sì Quindi io Faccio un appello La prima commissione Del consiglio superiore Della magistratura Affinché si occupi Di questa vicenda Non solo Nell'interesse Della famiglia Di Emanuele Orlandi Che da 38 anni Aspetta giustizia Ma anche Nell'interesse Della magistratura Stessa Perché Che avvii Quel cammino Di ritrovato vigore Di cui ha parlato Anche il presidente Mattarella Pietro L'ultima parola A te Tanto Sono contento Di questa Posizione Che ha preso Il dottor Cavallo Dopo tanti anni L'ho detto Tantissime volte Privatamente E io sono convinto Che gli farà I passi giusti Nelle serie opportune Sono convinto Che farà I nomi Di queste persone Perché Si dovrà Arrivare L'ultima parola Di giustizia Emanuele Io di questo Ne sono convinto Ma io soltanto Chiedere una cosa Al dottor Cavallo Perché In tanti anni Di incontri privati E assolutamente Che questi Questa serie di incontri Avvenuti nell'arco Di dieci Siano venuti In Vaticano Io mi sento Dio che sono venuti In Vaticano Tant'è vero Che ho avuto Testimonanti Di persone Che mi hanno detto Sì Stava qui Il dottor Cavallo E non sono persone Anorme Di norme Il sacco Era L'ex comandante Della giugneria Guarda Guarda La domanda Sì Sono avvenuti In Vaticano O in procura Questi incontri No Questi incontri Sono venuti In procura In procura Perché a me Ha detto Che sono avvenuti In Vaticano Non lo so Lei ha detto Che erano avvenuti In Vaticano Ah Pietro Sì Francamente Mi sembra di no Probabilmente Diciamo Come no No Probabilmente Diciamo È È Una traduzione Del Del contenuto Dell'incontro Io non ho dato Nessun particolare A Pietro Dell'incontro Perché I particolari Non facevano parte Del Come dire Del mio obbligo Nei confronti di Pietro Il mio obbligo Lo sentivo morale Per dargli La indicazione Di perché Io mi muovevo Questo è avvenuto Molti anni dopo In un certo modo E il Aspetta Pietro Aspetta Pietro Facciamolo concludere E il Come dire Il momento È stato quello Della Della uscita Di un film Di un film Quello di Roberto Faenza Di Roberto Faenza In cui appunto Il regista Mi chiese Qualche consiglio Qualche consiglio Circa Diciamo L'esito Della Della vicenda E io Di consigliai Di Di far terminare Il film Con la scena Che poi Effettivamente È conclusiva Una scena In cui c'è L'incontro Che Il regista Ambienta In una zona Piena di Come un museo Come se fosse un museo E che avviene Lo fa il regista Tra un Presunto magistrato E un presunto Prelato Questo però È Come dire È la traduzione Artistica Di un input Che io Ho dato Al regista In modo In modo Così Io devo dare La pubblicità Pubblicità Siamo qui Comunque Eccoci tornati Dottor Capaldo Allora Questa disponibilità Che ha dato A Diciamo Raccontare Come andò Questo inizio Di trattativa Io non Trovo altre parole Con il Vaticano Per la restituzione Del corpo Di Manuela Lei nel libro Fa un'ipotesi Cioè Racconta Che In realtà Diciamo Sempre nella fiction Del romanzo L'accordo Si trova Sulla possibilità Che il corpo Di Manuela Venga Diciamo Fatto trovare In un piccolo cimitero Quindi non All'interno Del Vaticano In modo Da allontanare Quanto più possibile Ogni responsabilità Diciamo Del Vaticano In questa scomparsa È una sua Così È un'idea creativa Del romanzo Oppure C'è qualcosa Di più Che può essere Collegato Alla realtà No Io ho scritto Romanzo Quindi Come ho accennato All'inizio Molte vicende Sono romanzate Questa è una Vicenda Romanzata La individuazione Del luogo In cui nel libro Do questa Colloco Questa ipotesi La tomba La tomba Non la colloco Esattamente Lì Nel piccolo cimitero Ma in un altro luogo Il piccolo cimitero È la versione ufficiale In cui nel romanzo Sostengo Che La tomba Della ragazza Che non è Emanuele Orlandi Ma Ha un altro nome Anche se Le iniziali Sono le stesse Anche se Per iniziali Sono le stesse È sepolta Quindi ecco Pietro Ci sei? Pietro Tu avevi dato Diciamo Naturalmente Per come si sono diluite Negli anni Le vicende E le poche cose Che sono emerse Su tua sorella Avevi dato Diciamo Una speranza Un'aspettativa All'apertura Di quella tomba All'interno All'interno Del cimitero Teotonico Dentro le mura Del Vaticano Che poi è risultata Essere Un niente Un niente di fatto Sì Ma quella È una richiesta Che abbiamo fatto Perché C'erano state Segnalazioni Non anoniche Ma erano Segnalazioni Inferno Il Vaticano Ma la questione Di quella tomba Sarebbe lungo Da dire Ma non finisce Qui Perché sai Quello che è stato Trovato sotto Quella tomba Sì Cioè È stata trovata Quella famosa Stanza Completamente Pulita All'uomo Si poteva Certo Sessanto Alzando Una massa Di marmo Davanti Alla famosa Tomba Che c'era Stata Segnalata E lì È successo Qualcosa Che il Vaticano Ha spostato L'attenzione Ricordiamoci Che stiamo parlando Nel 2012 Riguardo Questi incontri Di Dottor Capaldo E la tomba Della tomba Ne parliamo Stiamo parlando Nel 2013 Di 2018 Quindi quando Io credo Quando Al Dottor Capaldo Viene detto Viene detto Quello famoso Va bene Solo che In qualche modo Così mi racconta Il Dottor Capaldo L'importante Per obiettivare Una soluzione Affinché Il Vaticano Mi rimanga Completamente Completamente Pulito Io credo Che sia legata A quel qualcosa Che stava Là sotto In quella stanza E che Si Hanno deciso Di allontanare Sì Avvocatessa Sgro È un elastico Questa storia Vero? Cioè Ci sono momenti In cui ci si avvicina E momenti In cui improvvisamente Ci si allontana Di nuovo Come se Si dovesse Ricominciare Da capo Eh sì Lei ha perfettamente Ragione Speriamo Che questa Sia la fase Del lancio La parte Dell'elastico Quindi confido Molto Nel contributo Che vorrà dare Il dottore Il dottore Capaldo Bene Dottore Capaldo Io La ringrazio Ricordo Il titolo Di questo romanzo Che Insomma Lo chiamiamo romanzo Però a tutti gli effetti È un romanzo Che è la ragazza scomparsa Nel quale Però Insomma Chi vuole Leggerlo Troverà Molti spunti Di riflessione Sulla realtà Delle cose Per come Sono andate E per come Sarebbero andate Rispetto a ciò Che sappiamo È così È così Lo definisco Per questo Un romanzo Verità Grazie di essere Stato con noi Grazie Dottore Capaldo Grazie Laura Sgro L'avvocatessa Sgro Grazie Pietro Per essere stato In collegamento Grazie a voi Grazie Grazie E noi Però non ci fermiamo Perché Avevo citato All'inizio Tra i Cold case Che si Si sono riaperti Quello Di Marco Pantani Che è un cold case Naturalmente che Diciamo Ha creato Molta Molta Attenzione Perché La morte di Pantani È stata Per tutti I tifosi del ciclismo Ma soprattutto Di Pantani Un momento drammatico Perché Nessuno si è mai Arreso all'evidenza Che potesse essere Morto da solo In quel modo Dentro un residence In un appartamento Messo sotto sopra E Diciamo Soprattutto Nessuno Si è mai Arreso All'idea Che davvero La mattina In cui A Madonna Di Campiglio Fu trovato Con un livello Di ematocrito Al di là Della norma Quello potesse essere Stata la fine Di una carriera Strepitosa Epica E allora Rivediamo Prima di parlare Con due ospiti Direttamente Di questa Di questa storia Di Marco Pantani E del fatto Che è stato Riaperta l'inchiesta Con l'ipotesi Di omicidio Rivediamo Quel momento Di Madonna Di Campiglio Perché quello È il punto Di svolta Che poi porta Le conseguenze Che tutti sappiamo Vediamo Tutto gira intorno A quella maledetta Tappa in cima Alle Alpi La ventesima Del Giro d'Italia 1999 Lassù A Madonna Di Campiglio Prima Pantani Trionfa Con una delle sue Solite Inarrestabili Scalate E conquista La maglia rosa Poi Inciampa Nella clamorosa E ora C'è un'inchiesta Che è stata Riaperta Con l'ipotesi Di omicidio Perché i magistrati Vogliono capire Se in quegli ultimi giorni In quelle ultime ore Di vita Marco Pantani Fosse davvero Da solo In quel residence Le Rose Sul lungomare Di Rimini O se ci fosse Qualcuno Con lui E come effettivamente È andata Quando L'ultimo giorno Poi Lo hanno trovato Morto Con una specie Di messa in scena Nella stanza Vedremo Se i sospetti E le voci Che si sono Rincorsi Per tutti Questi anni Troveranno Una conferma Oppure no Ma i casi Di doping Che hanno preceduto Pantani E quelli che sono Venuti dopo Sono molteplici Non soltanto In Italia Dove peraltro I controlli I controlli Anti doping Funzionano molto bene Sono molto più frequenti E più duri Di quelli che vengono Fatti altrove E qui C'è una piccola Carrellata Su alcuni casi Di doping E anche alcuni casi Di Diciamo così In giustizia Nelle tasche Nelle tasche del Corridore britannico Vengono trovate Confezioni Di anfetamina A città del Messico Nel 1968 Lo svedese Hans Lilianval È il primo atleta Nella storia Dei giochi olimpici A essere escluso Perché trovato Con livelli alti Di alcol Nell'organismo Mentre il primo Grande scandalo Di doping Nel ciclismo Fu quello di Eddie Merckx Fermato al Giro d'Italia Del 1969 E squalificato Per positività Alla Fentamfamina Tra i casi Di doping Più famosi C'è poi Quello di Ben Johnson Alle Olimpiadi Di Seoul Del 1988 Campione Dei 100 metri piani Solo per una manciata Di giorni Trovato positivo Agli steroidi Dopo la gara Johnson viene squalificato Privato Della medaglia d'oro Che va a Carl Lewis E del record del mondo Ottenuto nella finale Anche la statunitense Marion Jones Risultata positiva A un controllo Nel 2007 Ha dovuto restituire Tre medaglie d'oro E due di bronzo Vinte ai giochi Di Sydney Nel 2000 Che l'avevano incoronata Regina dell'atletica Stessa sorte È toccata Lance Armstrong Il ciclista texano Squalificato a vita Che intervistato Da Oprah Winfrey Ha ammesso Di aver usato Qualsiasi cosa Testosterone Epo Ormone della crescita E trasfusioni I risultati ottenuti Tra il 1998 E il 2011 Vengono cancellati Comprese le sette vittorie Consecutive Al Tour de France Ma c'è anche Chi viene accusato Ingiustamente Come il nuotatore azzurro Filippo Magnini Due volte campione Del mondo Dei cento stile libero E vincitore Di ben 17 Ori europei Squalificato Per quattro anni Nel 2018 Magnini Ha impugnato La sentenza Davanti al tribunale Arbitrale Dello sport di Losanna Che lo ha poi Prosciolto Più complicato Il caso Di Alex Schwazer Il marciatore Alto a tesino Triunfatore Alle olimpiadi Di Pechino 2008 Nella 50 km Di marcia Fidanzato Con la star Del pattinaggio Carolina Kostner Era il ragazzo D'oro Dello sport italiano Quando nel 2012 Alla vigilia Dei giochi di Londra Viene trovato Positivo All'epo E squalificato Per due anni Tornato in pista Nel 2015 Comincia ad allenarsi Per i giochi di Rio 2016 Ma alla vigilia Della gara Viene reso noto Che i campioni Di urina Prelevati a Schwazer In un controllo Sei mesi prima Sono positivi E lui è quindi Squalificato Di nuovo Per otto anni Il 18 febbraio 2021 Il giudice Di Bolzano Walter Pelino Ha archiviato il caso Avendo accertato Che i campioni Di urina Sono stati alterati Allo scopo di ottenere La squalifica E il discredito Dell'atleta La decisione Della giustizia ordinaria Non inciderà però Su quella sportiva La squalifica Rimane Abbiamo parlato Di cold case Ma non avremmo Mai immaginato Che il caso Di Emanuela Orlandi Si sarebbe Riaperto Così clamorosamente Con l'intervista Fatta A Giancarlo Capaldo Il magistrato Che ha seguito Quella vicenda E che questa sera Ha rivelato Che ci fu Di fatto Una trattativa Con il Vaticano Che era Disposto Fino a un certo punto E ad un certo punto A spendersi Per riconsegnare Il corpo di Emanuela Alla famiglia Il che significa Che in Vaticano Qualcuno sapeva E ancora sa Dove è finita Quella ragazza Scomparsa Ormai 38 anni fa È stata Una serata Importante Noi sul caso Di Emanuela Ma non soltanto Anche su quello Di Pantani Ci siamo spesi Più volte E come vedete Continuando A battere Il ferro Come si dice A non mollare mai A tenere La luce accesa Alla fine Un passo in avanti E in questo caso Un passo in avanti Torno a dire Clamoroso Lo si può fare Grazie di averci seguiti Buonanotte